buon pomeriggio a tutti e buon pranzo cari amici tra un primo e un secondo e tra un starnuto e un altro è che c'è l'altro nuovo video parlando di tennis ATP Rotterdam in Olanda nell'ottavo di finale il nostro tenista con nazionale Sinder numero ATP 79 abbattuto sorprendentemente direi il numero ATP 10 Goffman ora si è appresa ad affrontare quarti di finale credo domani Carregni, Pablo, Carregni o Busta partita tra Sinder e Goffman durata due ore esatte un'ora e nove minuti il primo set vinto da Sinder 7 6 9 7 secondo 51 minuti 7 5 vittoria del nazionale italiano quotata 3 3 20 3 e 40 e grazie a tutti e ciao